Presidente Curcio, lei è stato molto chiaro e netto, un aumento della tassazione potrebbe essere veramente devastante non solo per il settore ma in primis per il giocatore. Ecco, come associazione, che cosa intendete fare anche alla luce di questa nuova legge di Stabita che sembra appunto voler aumentare il Preu? Noi più che evidenziare che la situazione non è delle migliori e che una tassazione o comunque una diminuzione del pagamento al giocatore sarebbe negativa sotto tutti i punti di vista in un settore che è già in un momento negativo perché non ci scordiamo che il settore è in recessione anche per la situazione che si è creata con le leggi regionali e con i regolamenti comunali. Cioè qui c'è una limitazione notevole all'operatività delle aziende, quindi questo è già un elemento negativo, quindi si va a colpire un settore che già sta subendo una sorta di recessione proprio tecnica operativa evidente. Se a questo aggiungiamo un aumento del Preu che vogliono bilanciare o potrebbe essere bilanciato con una diminuzione del payout noi facciamo danni comunque a tutta la filiera compreso il giocatore. Perché da una parte le aziende si vedono ridurre il margine perché anche se questo payout viene bilanciato comunque c'è la necessità ulteriormente dopo quella appena passata e non del tutto della sostituzione del parco macchina dal 75 al 74, si dovrebbe ritornare a una nuova sostituzione di apparecchi ed oggi con la contrazione delle giocate i margini per le aziende si sono ridotti notevolmente. Quindi un nuovo investimento in questo momento non è sostenibile assolutamente, si rischerebbe veramente di collassarlo completamente il settore. Quindi questa è l'evidenza. Ecco, si aspettava diciamo un intervento così un po' a gamba tesa diciamo del governo anche alla luce di una delega fiscale che comunque diciamo entro marzo doveva essere attuata almeno secondo quello che diciamo è stato detto ad esempio dal sottosegretario Baretta e anche diciamo alla luce forse di un vuoto legislativo che in questo momento c'è anche con l'assenza di un delegato al gioco. Io mi aspettavo che una volta tanto, non sono molto sorpreso, non sono sorpreso perché questo settore è tenuto in considerazione esclusivamente quando deve fornire maggior gettito. Per il resto è un po' abbandonato a se stesso, lo devo dire. Anche questa situazione della delega fiscale che era effettivamente, poi ritengo che ci siano altre emergenze oggi nel paese, però un settore che fino ad oggi è stato un settore produttivo, vederlo così preso in scarsa considerazione o comunque con dei tempi dilatati all'infinito sicuramente non dà una buona percezione. Sul fatto che sia stata presa in considerazione un aumento nella legge di stabilità di questo non mi stupisco perché ogni anno noi siamo sottoposti a dover sempre essere praticamente la cassa per lo Stato per sistemare alcune cose. Fino ad oggi questo non c'è stato perché l'ultimo aumento che è stato fatto è stato spalmato sui tre anni e quindi l'impatto è stato abbastanza ammortizzato, però comunque abbiamo subito il rinnovo degli apparecchi che non è nemmeno completamente e totalmente definito. Oggi parlare ulteriormente di aumento significa veramente non tenere in considerazione uno dei pochi settori che ancora dà gettito allo Stato. Quindi a mio avviso ci dovrebbe essere una riflessione un pochino più approfondita, una riflessione di sistema e avere il coraggio, ripeto ci vuole coraggio oggi da parte della politica di prendere in considerazione eventuali e determinate problematiche, però avere il coraggio di prendere in mano la delega fiscale e approfondire l'argomento e fare una, se si vuole fare una rivoluzione, ma fare una rivoluzione di sistema che vada a equilibrare tutte le offerte di gioco. Il settore degli apparecchi da intrattenimento non è solo quello in vincita in denaro ma c'è anche appunto quel settore del puro intrattenimento che è stato però un pochino accantonato, lo possiamo dire qui, che attende una riforma da ormai da diverso tempo. Ci sono novità su questo fronte? Allora, mi dispiace dirlo ma novità su questo fronte non ce ne sono. Il decreto sui comma 7 e sugli apparecchi meccanici è stato completamente abbandonato, nonostante dopo una prima fase di dibattito anche con le associazioni di categoria e erano state anche recepite alcune osservazioni fatte, però è stato accantonato. Io ritengo che sia accantonato un po' per la situazione di gran confusione che c'è, un po' perché il settore degli apparecchi non garantisce un gettito pari a quello degli apparecchi comma 6, però qui non è più una questione di gettito perché a quanto pare anche il settore che dà gettito mi sembra che venga preso in considerazione con molta superficialità. Noi come associazione stiamo cercando di stimolare, non dico giornalmente, ma periodicamente l'amministrazione a dar luce a questo decreto, però ripeto non ci sono grosse aperture. E questo dispiace un po' perché anche nell'edizione di quest'anno della fiera vediamo che comunque, prima ho parlato di coraggio degli espositori, c'è stato molto coraggio a continuare a esporre anche apparecchi diversi dal comma 6 e ci sono molti stand che hanno al loro interno, ci sono anche molte novità che sono arrivate, logicamente se non si mette mano a una riforma anche per quanto riguarda la possibilità di importare in Italia gli apparecchi dall'estero perché la produzione è al 90% straniera, se non si dà uno stimolo a questo decreto, si alleggerisce la burocrazia, si danno delle aperture anche da un punto di vista di tassazione perché ormai gli apparecchi sono soggetti a una tassazione che risale a diversi anni fa quando il trend era magari positivo rispetto a quello di oggi. Quindi andrebbe rivisto e sono convintissimo e siamo convintissimi come associazione che se venisse curata con attenzione questa parte del settore di gioco i risvolti positivi sarebbero per gli operatori ma sarebbe anche per lo Stato attraverso il prelevo era reale. Grazie.